L'utilizzo del centro antifumo da parte dell'utenza può essere senza dubbio un vantaggio per il fumatore che ritiene di dover smettere di fumare perché sappiamo che il fumo è una dipendenza per cui molto spesso è difficile che il paziente da solo riesca a smettere. Quindi il ricorrere al centro antifumo serve proprio per dargli una maggiore chance, una maggiore possibilità di riuscire in questo percorso perché sappiamo che non è facile. Quindi il centro antifumo sicuramente può dare tutta una serie di possibilità di supporto medico, di supporto psicologico ma anche farmacologico per aiutare proprio in questo iter di cessazione quindi per rendere diciamo meno pesante questo percorso di cessazione. Noi lo consigliamo di rivolgersi a noi, consigliamo di rivolgersi a noi sia il fumatore sano diciamo che sta ancora bene, non ha malattie proprio per evitare di andare incontro a queste, sia il fumatore che ha già tanto più delle patologie quindi per evitare che queste possano aggravarsi quindi possano peggiorare. Per l'accesso al centro non è difficile, innanzitutto ci vuole la volontà da parte del paziente quale deve prendere in mano il telefono, comporre il nostro numero di telefono e prenotare una visita con richiesta del medico curante, quindi l'accesso prevede evidentemente la disponibilità di una ricetta regionale con richiesta di visita pneumologica. Dopodiché viene fissato l'appuntamento e poi il paziente si presenta e nel giorno prefissato inizia poi l'iter previsto. Una volta che il paziente accede al centro viene sottoposta a una prima visita medica generale per valutare le condizioni di salute generali, le motivazioni che l'hanno portato ad accedere al centro, le eventuali assunzioni di terapie che potrebbero interferire con le terapie che poi possono essere utilizzate con l'utilizzo dei farmaci per la cessazione e quindi per una valutazione generale. In contemporanea viene fatta una prima valutazione del grado di intossicazione da monossio di carbonio legato al fumo, quindi con un particolare apparecchietto viene dosato quello che è la presenza di osse di carbonio per dare anche un'idea al paziente di qual è il suo livello di contaminazione da questo gas e ci servirà poi per monitorarlo nel tempo per capire se effettivamente poi l'isossofazione procede. Dopo questo primo approccio più medico viene valutato invece in ambito psicologico dalla nostra psicologa che lo sottoporà a una serie di test, il più importante di questo è il test di Fagerstrom, un test molto noto che permette di misurare la dipendenza dal fumo e più ci sarà anche un colloquio psicologico per capire un po' le motivazioni, il grado di dipendenza, la volontà di uscire da questo percorso di dipendenza e per decidere poi insieme quale strategia seguire. La nostra proposta che viene personalizzata e tagliata quindi su misura proprio in base alle esigenze di quel particolare tipo di fumatore, del suo rapporto col fumo, la sua motivazione, il suo grado di dipendenza può prevedere l'utilizzo di donne terapie farmacologiche sostitutive, gomme, cerotti, compresse sublinguali oppure integrative, in particolar modo bupropione, cloridrato o la vareniclina che agiscono proprio sui meccanismi biochimici della dipendenza e sono un valido aiuto per attenuare il craving, cioè il bisogno compulsivo di fumare ed eventuali sintomi astinenziali. unitamente e in maniera integrata a una serie di colloqui e quindi ad un supporto psicologico motivazionale che serve proprio ad accompagnare il paziente durante il percorso di disassuefazione che prevederà il cambiamento di tutta una serie di abitudini, di rituali che da tantissimo tempo per molti anni, la maggior parte spesso della vita del fumatore, ogni giorno, tutto il giorno e tutti i giorni ha caratterizzato la sua esistenza. Il percorso mediamente dura circa tre mesi e prevede appunto, a seconda poi del metodo scelto, che può prevedere un'interruzione subitanea, ad esempio le terapie nicotiniche sostitutive oppure graduale, l'utilizzo di molecole come vareniclina e bupropione o il solo supporto psicologico, non è sempre necessaria la terapia farmacologica, può prevedere mediamente, dicevamo, circa tre mesi dalla disassuefazione al mantenimento dell'astinenza. Data però l'elevato rischio di ricaduta e il tasso e la percentuale di ricadute, tendiamo comunque a fare follow up fino ad almeno un anno e poi la nostra porta rimane sempre aperta, nel caso anche successivamente in relazione magari ad eventi particolarmente critici della propria vita, la persona può sempre tornare presso il nostro centro ed essere nuovamente motivata a iniziare il percorso e ad essere reinserita nel nostro percorso. Grazie a tutti!